Tanti giorni di allenamento duro, insomma senza partite e si traduce tutto in una gara quasi perfetta, in una bella gara. Una bella gara sì, una parte importante anche per il morale, abbiamo perso lì contro Urbino, adesso andiamo avanti se c'è rimasto solo il ceppio e se il campionato. Eri molto sicura della partita secca contro Urbino, mi ricordo che eri convintissima di portare a casa la gara. Sì, ma perché venivamo dopo un periodo positivo, però sai, ogni partita è diversa dall'altra. Senti, questa invece è stata perfetta, 3-0 è anche il punteggio migliore perché insomma, sai, andate in ritorno c'è il quoziente 7, quindi ecco, come dire, messi in cassaforte il risultato è migliore. Per la sicurezza dobbiamo andare a vincere, così siamo tranquilli, vinciamo due e passiamo. Beh, insomma, comunque è stata una bella gara, intanto avete riscattato il campionato, no? Nel quale avevate subito Pesaro e insomma, ecco, si è vista anche più sorriso in campo, più energia. Sì, poi sai, quando le cose vengono bene è giustamente più facile anche sorridere. No, ci aspettano partite importanti adesso anche in campionato, sono contenta di questa gara, prendiamo passo per passo. Passo per passo c'è Novara prima del ritorno con Pesaro, altra gara bella tost, c'è il quarto posto in classifica, insomma, ecco, di buon livello. Penso che non c'è a spesa nessuna partita facile da adesso in poi, quindi stasera ci godiamo questa vittoria e da sabato torniamo in palestra a lavorare per la prossima partita. Complimenti in bocca al lupo. Grazie, crepi.